Siamo tornati, saranno le due e mezza più o meno, ci riproviamo, vediamo se troviamo qualche cazzo di qualcosa. Ah, prima che... metti giù quella, mettila giù. Prima che qualcuno mi dica non si può andare in mezzo agli sdrai, che conosco benissimo le regole che si può andare a sei metri dalla battigia. Abbiamo chiesto permesso. Tu fatti i cazzi tuoi che sto parlando io, il video è mio. Ai responsabili della spiaggia ci hanno già dato il permesso per poter gironzolare, hanno detto fate quel cazzo che volete, quindi... Hanno da evitare che qualcuno mi dica non si può andare in mezzo agli ombrelloni. Chiaramente non si troverà una minchia. Vediamo sto segnale qua che cazzo è. Questo è sempre il mio rastrello top. La cagatina di staniola. Facciamoci la qua nel mezzo, aspetta che... Facciamo un po' la sessibilità. Andiamo in qua e torniamo indietro. Anche perché... Le gambe cominciano a cedere. L'altra stagnola. E adesso è qualche spicciolo, due macchine. Prime, una scatina è un po' benissimo. adesso è una roba piccola che è piena di granelle e pezzi di ombrellone era una piccola di più questo sbitti l'inqua suonano attualmente bene persona della cagata cos'ho trovato sto cazzo ho trovato questo profondo sarà qualche centesimo pentolino del tè non è neanche un centesimo è una cosa di una spierina questa che fortuna spiega continua ci dai un centesimo giusto che facciamo vedere che c'è qualcosa non c'è un centesimo giusto un pezzettino di stagnola niente solo stagnola qua questa è quella buona una ranella rondella come cazzo la chiamate questo è buono vediamo sicuro una linguetta no andata bene aspetta c'è ancora qualcosa è andata bene un cazzo questo durato c'è carate cartine cartacea comunque prima che non ho fatto il video qualche momento l'ho trovata non ho male adesso che non si trova cazzo prima indietro guarda cosa ho trovato la tiro fuori col pinponter questo non so vediamo che cazzo è questo profondo non cazzo è una roba piccola anche questa ci siamo abbonati alle rondelle guarda guarda che vediamo la stoppata così sono i sdrai Mastroniamola. E' una collana d'oro e via. Signore del cazzo. Conquilla. Niente, io con il video sono sfigato. Perfisca. Eh? Perfisca. Perfisca. Andiamo a andare diretti qui. Almeno che trovo una moneta. Fai vedere l'ho trovata. Eccola. Oh, meno male. 10 centesimi. Che culo. Un po' misero, ma... Eh, vado. E' già qualcosa? Dai, vediamo se ce n'è ancora una. Tu salutiamo tutti. Si va a casa? Eh, bisogna vedere l'autista. E' sta andando là. Magari anche non ce l'è Niente Questo sarebbe un buon segnale Non mi convince Fagnola No, non è quella Quella di prima Fai un segnale Dicazzo anche questo Non è che ha preso ancora Adesso dovrei averla presa No, è quel cazzo Ah qua, guarda Una cerniera La mettiamo nella collezione delle cerniere Che ne avrò tipo 50 Boh, dai Fai vedere il mare un po' Lì non si vede Andavi da crociare Sempre lì che gira Salutiamo tutti Iscrivetevi alla pagina Fate i bravi E per questo giro Solo 10 centesimi Non mi mettere il piede sul metal Che mi rompe la piastra Grazie Fate i bravi Buonanotte Ciao